E a chi se lo possa, precisamente? Te l'ho detto, non ha voluto dirmelo, ma sicuramente conosce bene mio marito. Tuo marito? Ma così muoghiamo? Beh, sì, lo è. Che ti piaccia o no? Senti, forse ho sbagliato a dirtelo. Lascia perdere. No, invece, mo da sette ne parliamo. Vai, su, sette, forse. All'inizio non potevo credere che lui avesse fatto quelle cose. Lui stesso mi giurava di essere innocente, che non aveva ucciso quella donna, non l'aveva frequentata. Ma, alla fine, mi sono detta che dovevo guardare i fatti. E i fatti dicevano che era colpevole. Ma che è colpevole, Viola? Ma quest'uomo dice che tutte le prove sono state costruite a tavolino, che hanno voluto incastrarlo, credimi, conosceva il caso, nei minimi particolari. Ha incastrato, ha incastrato. Però come cazzo fai a creare una cosa chissà? Scusa, ma loro tutto quello che mi ha contato era morto per te, che non faceva più parte della vita tua, erano strunciate, rischio. Ma l'hai capito o no che potrebbe essere innocente? Dovrebbe interessare anche a te, no? Eh, caccia fallo, caccia fallo, muo vago, uscite e lo faccio partì, caccia fallo. No, no, però, tu hai accesso a tutta la documentazione e sei l'unico che potrebbe parlare con lui direttamente. Ma forse possiamo ancora fare qualcosa. Possiamo ora innamorare. Dici sempre che vorresti poter fare qualcosa di più per le persone che risvegli, ma alla fine, alla fine, eccoti. E adesso che potresti aiutare qualcuno, ti tiri indietro perché si tratta di mio marito. Fammi uscire di qui. Fammi uscire di qui, David. Fammi uscire di qui, David.